Saggese, premium partner Sciuco, è al tuo fianco per la progettazione e l'installazione di serramenti, porte, outdoor, coperture e non solo. Saggese S.P.A. Serramentisti per vocazione dal 1982. Tutela della salute e PNRR. Questo è il titolo di un importante incontro di studi che si è tenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 maggio, nell'Aula Consiliare del Comune di Cava dei Tirreni. L'incontro, organizzato dal professore Armando Lamberti, docente di diritto costituzionale all'Università di Salerno e assessore alla tutela della salute, è stato ricco di spunti di riflessione nell'ottica della programmazione del PNRR in ambito sanitario. Tra gli illustri relatori presenti, l'ex ministro della salute Renato Balduzzi. Sì, è stato un incontro molto positivo. Gli interventi che hanno preceduto il mio si sono caratterizzati per andare oltre quello che qualche volta è una tentazione in alcuni territori del nostro paese, quello di fare un elenco delle dolianze, di lamentarsi, di chiedere genericamente più risorse. Hanno invece puntato sul fatto che il PNRR richiede una forte responsabilizzazione individuale, una responsabilizzazione dei professionisti, una responsabilizzazione dei livelli istituzionali, insomma un cambiamento di mentalità. Le case della comunità di cui si sta parlando significa che non è più come solo l'ospedale in cui vai tu quando hai un bisogno acuto di cura sanitaria, ma è un'andata e un ritorno perché è il servizio sanitario che si prende cura di te con un piano assistenziale individuale, con l'integrazione socio-sanitaria. Sono parole, sono cose scritte nelle regole nazionali e regionali, hanno bisogno di diventare realtà, di diventare esperienza concreta e se le premesse di questa sera qui a Cava dei Tirreni saranno mantenute, io non ho dubbi che potranno diventare qui nell'area salernitana, in regione Campania, cose concrete. Noi a suo tempo, quando chiedemmo l'intervento del ministro e Armando ci portò il ministro in un convegno dei professori di diritto costituzionale, quindi il professor Balduzzi venne a Salerno all'università, gli chiedemmo un intervento perché era inspiegabile che non si potesse trasformare l'azienda ospedaliera che noi avevamo scelto come riferimento per l'università, perché attraverso l'integrazione che il ministro ha ben sottolineato tra studi universitari, ricerche universitari a letto del paziente, così come noi avevamo previsto con il nuovo ospedale, diciamo che così si potrà fare una vera integrazione tra studi e ricerche che è l'università e l'assistenza che è l'ospedale. Credo che sia un momento veramente importante per risistemare tutti quei profili che in materia di sanità in questi anni si sono mostrati chiaramente carenti, determinando una serie di disallineamenti e di disagi sul territorio. Bisogna comportarsi virtuosamente rispetto ai soldi che arriveranno, rispetto alle risorse e di investirle nella prospettiva che quella che poi interpreta il PNRR del paziente è realmente al centro del sistema. È stato un incontro estremamente interessante, ha messo a punto le criticità attuali e la soluzione di queste criticità che vanno soprattutto nel potenziamento del territorio, nell'alleggerimento degli ospedali e quindi in un'azione di filtro che il territorio deve esercitare. È stato veramente un momento di approfondimento molto importante, da cui usciamo rinfrancati, da cui usciamo convinti che anche alcune iniziative che abbiamo già intrapreso nella direzione di un utilizzo appropriato dei fondi del PNRR di ripresa e resilienza insomma sovvanno nel verso giusto. Per quanto riguarda la questione della sanità del nostro territorio sono emersi alcuni elementi di estrema rilevanza che metteremo in campo, ne faremo tesoro, a tutela della risposta adeguata e sempre più adeguata del nostro territorio al bisogno di sanità che i nostri cittadini esprimono. Quindi è stata veramente una serata importante. Interventi di grandissimo interesse scientifico e direi anche di tipo politico perché di politico in senso alto nel senso che sono venute anche delle indicazioni importanti che si possono tradurre anche come monito per il legislatore per cercare anche di intervenire su alcuni punti della legislazione in materia sanitaria e in particolare poi soprattutto è venuto in maniera chiara diciamo l'indicazione di un intervento normativo che possa anche ridefinire i livelli essenziali di assistenza e anche una nuova codificazione alla luce anche dell'esperienza pandemica.